La prima reazione arriva da Palazzo Grazioli quando la decisione della Giunta per il regolamento è nell'aria ma non ancora formalizzata. Berlusconi è furioso, cancella il pranzo con i ministri sulla legge ristabilità in agenda da giorni. Da lui nessuna dichiarazione, l'ira del PDL si manifesta con una raffica di dichiarazioni durissime di Falchi e Colombe. Quello che è successo oggi è un fatto politico gravissimo perché oggi si è deciso di suicidare la democrazia e lo Stato di diritto. Contro la scelta del voto palese si schierano i ministri. È un grave precedente con conseguenze per la democrazia, dice Lupi. Decisione gravissima, regole sovvertite, commenta la Lorenzin e Quagliariello avverte. Non dobbiamo cadere nella provocazione. Se cade il governo si creerebbe una maggioranza neostile, il PDL andrebbe le elezioni senza leader mentre il PD lo ha. La reazione del vicepremiere Alfano arriva solo nel tardo pomeriggio con una nota. La decisione di scelta civica e PD di sostenere il voto palese col Movimento 5 Stelle è la violazione del principio di civiltà che regola da decenni il voto sulle singole persone e i loro diritti soggettivi. Ora, scrive il vicepremier, sarà battaglia per ripristinare il diritto alla democrazia innanzitutto in sede parlamentare dove si è consumato il sopruso. È la conferma della linea discussa da Berlusconi a Palazzo Grazioli con i coordinatori Verdini e Bondi, i capigruppo di Camera e Senato Brunetta e Schifani. In aula sarà guerriglia regolamentare contro il voto palese. Ma all'orizzonte resta la rottura, la possibile crisi, ancora il confronto tra governativi e lealisti. Il coordinatore del PDL e Bondi chiede uno scatto d'orgoglio. Ci limitiamo a belle dichiarazioni di facciata, più o meno sentite, fanno bene a trattarci così. Il PD minimizza i rischi per il governo, rivendica la scelta del voto palese. La legge è uguale per tutti, si abbassino i toni, dice il segretario Epifani. Il Senato ha applicato il regolamento vigente. Il regolamento vigente in casi come questo prevede il voto palese. Ma rivendicare con una vittoria il voto palese è soprattutto il Movimento 5 Stelle. Il Movimento 5 Stelle soddisfatto è una grande vittoria per noi, è una vittoria quella ottenuta nell'aggiunta per il regolamento e il voto palese.